Andrea Bari libero della nazionale italiana, Andrea una vittoria spettacolare e soprattutto un pubblico meraviglioso Pubblico meraviglioso, ho letto nei cartelloni al di fuori del palazzetto sold out non so da quanto tempo quindi credo che, va bene, non sono io che devo dire che in Puglia la pallavolo è qualcosa di particolare ma tutto lo sport in generale, quando giocano le nazionali c'è sempre il tutto esaurito e questo anche magari in giornate belle d'estate dove la gente può fare anche altre cose chiaramente abbiamo dato, spero, un bello spettacolo, un buon entusiasmo anche se non abbiamo giocato benissimo ma questa è un'altra cosa Un 3-2 finale con i vice campioni del mondo è sempre un risultato importantissimo segue anche il 3-0 di Ancona, adesso quali le prospettive per il futuro? Le prospettive per il futuro? Adesso andiamo a cena e domani ci aspetta un lungo viaggio per l'Oriente noi dobbiamo andare lì e fare il massimo cercando di, come diceva un tuo collega, provare a vincere tutte le partite e poi probabilmente non so se ci riusciremo però ce la dobbiamo mettere tutta stasera veramente quello che mi è piaciuto è che in alcuni momenti potevamo anche mollare invece non l'abbiamo fatto, siamo stati bravi, abbiamo rimontato più da una situazione non abbiamo giocato bene ma quando si vince così di carattere è molto positivo grazie